La storia corre, la storia va veloce, la storia allontana, infatti non è un argomento retorico conservare la memoria. Per un ragazzo che oggi ha 15 anni la resistenza, la seconda guerra mondiale sono lontanissime. Io penso sempre che quando io avevo 15 anni come ragazzo di oggi c'era la stessa distanza che per lui c'è nei giorni della resistenza e della seconda guerra mondiale, la stessa distanza per me c'era dall'assassinio di Umberto I nel luglio del 1900. Quindi quando le cose si allontanano diventano un pezzo della storia. Quando scompaiono i protagonisti, purtroppo scompaiono come naturale sempre di più, resta soltanto un racconto, un ricordo. Per questo è importante conservare la memoria, per questo è importante che lo Stato italiano abbia deciso di sostenere, di aiutare, di valorizzare i luoghi della memoria da Possoli a Casa Cervi, a Marzabotto, a Santana di Stazio, alla regia di San Sabba, luoghi che visitandoli fanno ritornare la storia presente. Per questo è importante ricordare questo 25 aprile e fare tutto quello che è possibile per tramandare alle giovani generazioni il sacrificio delle nostre madri, dei nostri padri che hanno sacrificato la loro vita per la libertà. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, perché è lì che è nata la nostra Costituzione. Buon 25 aprile e buona festa della liberazione a tutte e a tutti. Buon 25 aprile a tutti. Buon 25 aprile da casa Cervi. Buon 25 aprile. Viva il 25 aprile.